musica 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 vabbè, invece metto con la mano con la mano, tieni qua e con la mano si, si, però vieni, vieni vieni musica 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 Dai ragazzi, dai! Era buono, è a contatto. Sono venuto dalla fine. Ma il centrale dopo. Centrale dei piedi? Ma dai, centrale dei piedi! Dai ragazzi! Oh dai! Martini sulle gambe! No, no, è porto il Dio. Go! 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 Dai Ghedotti! Dai Ghedotti! Dai!